ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di contatori del tempo un episodio dedicato al diver 65 cronografo chiaramente si tratta di un oris e cioè la versione cronografo del famoso diver 65 che anche io possiedo nel mio è in versione acciaio e oro orologio che è uscito recentemente è proprio una novità sul mercato e che va a colmare uno spazio vuoto nel catalogo di oris un tassello importante perché perché è l'unico cronografo a catalogo al momento in casa oris o almeno così mi risulta è 99 per cento sono sicuro in passato oris ha avuto altri cronografi ma erano tutti di dimensioni consistenti mi ricordo gli oris aquis da 45 45 e mezzo 46 e recentemente un paio d'anni fa uscì una versione cronografo del diver 65 però era da 43 mm 43 mm mi sembra che fosse anche un'edizione limitata quindi questo qua è proprio una novità un cronografo da 40 mm è una rarità nel catalogo di oris no credo sia quasi la prima volta vabbè poi se andiamo a vedere nel passato i vintage magari ci saltano fuori ma ai tempi moderni un 40 mm cronografo è la prima volta chiaramente mi piace l'ho preso l'ho deciso di portarlo sul canale perché mi piace e non è detto che se mi piace la versione solo tempo mi possa automaticamente piacere quella cronografo perché abbiamo visto in passato che il passaggio da solo tempo a cronografo di un bel design è stato snaturato quindi non è così automatico che un orologio cronografo che deriva da un suo tempo piaccia subito chiaramente l'orologio mi è stato messo a disposizione dal buon giacomo della gioielleria pasquale domenici di viareggio che è partner ufficiale del canale concessionario del marchio e che vi offre un trattamento di riguardo a voi che state guardando no vi tratta con i guanti bianchi come si vuol dire poi un appassionato qualsiasi domanda voi fate lui risponde al volo ora prima di girare la camera mi corre l'obbligo di farvi vedere l'orologio del giorno che avrete già capito che loris diver 65 acciaio e bronzo 40 mm quadrante blu notte blu scurissimo è uno dei pochi orologi che vengono realizzati in acciaio e bronzo col bracciale in acciaio e bronzo in due leghe no per lo meno fino a certo punto è stato penso l'unico poi non so se si sono aggiunti altri perché a questi punti fanno anche gli orologi completamente con il bracciale tutto in bronzo che è pesantino però insomma siamo andati avanti e non c'è più limite al colore al materiale un festival di colori e di materiali mi sembra di aver detto che troppo dai giriamo la camera diamo un'occhiata al diver 65 cronografo e poi ci troviamo qui come al solito per le considerazioni finali partiamo cercando di comprendere le proporzioni dell'orologio e per fare ciò dobbiamo necessariamente elencare i risultati delle misurazioni diametro cassa 40 mm spessore 15.4 ingombro trasversale al polso 47.8 mm e interasse ansa da 20 mm numeri che indicano la compattezza delle dimensioni visto che i 40 mm possono essere considerati come misura ideale e visto che il lag to lag è veramente contenuto 47.8 mm resta il dubbio sullo spessore 15.4 mm è un dato che sulla carta colpisce ed è palese che sia leggermente superiore alla media dei cronografi occorre però sottolineare che al polso non risulta così ingombrante come i numeri potrebbero far credere la spiegazione sta nel fatto che l'altezza è spalmata su alcuni componenti che non contribuiscono a renderlo pesante all'occhio ossia vetro e fondello lo zaffero è bombato e sporgente e il fondello è particolarmente accentuato proprio con lo scopo di contenere la maggior parte dell'altezza del calibro senza andare ad incidere sullo spessore del fianco si vede anche dall'attaccatura del cinturino che è in linea con la parte superiore del fondello così facendo si ottiene che la parte inferiore del fondello risulta al di sotto della quota anse andando a nascondersi a contatto con il polso lo si nota una volta indossato ciò che vediamo è solamente il lato carrur di per sé sottile e l'altezza della ghiera niente di così particolarmente fastidioso insomma lo spessore c'è ma è ben camuffato stilisticamente parlando ci troviamo di fronte al classico layout dei diver 65 di oris con lato carrur lucidato e superfici superiori satinate niente smussature o raccordi inclinati solamente angoli ben delineati che donano carattere all'aspetto dell'orologio carattere che poi completato dallo stile della pulsanteria laterale che vede i classici pulsanti a pompa in stile anni 60 corredati da una coronavite a cappello di prete discreti e neppure troppo sporgenti i pulsanti rappresentano da sempre il punto debole di un cronografo in relazione alle infiltrazioni il fatto che siano contenuti li preserva parzialmente da eventuali urti che potrebbero danneggiare le guarnizioni elemento che rimane pur sempre il punto critico sto dicendo questo perché l'impermeabilità garantita è di ben 100 metri un buon dato per un cronografo che però non deve farci credere di poterlo utilizzare sempre e comunque come si farebbe con un solo tempo non perché non possa leggere i 10 bar da nuovo quello è confermato ed esplicito ma perché con il passare del tempo la possibilità di micro danneggiamenti alle guarnizioni dei pulsanti è un fattore di rischio che va tenuto in considerazione e questo vale per tutti i cronografi insomma da utilizzare in acqua ragion veduta ed essendo sicuri di aver eseguito una corretta manutenzione nel tempo che derivi poi da uno skin diver lo si evince chiaramente dalla ghiera girevole unidirezionale fattore che lo identifica in primis come tale e solo in seconda battuta come cronografo può essere utile per monitorare ulteriori intervalli di tempo rispetto al solo cronografo ad esempio puntando il triangolo sulla sfera ore è possibile tener conto del passare delle ore cronografiche una volta che sia avviata la funzione crono ciò può essere particolarmente utile in quanto si tratta di un crono bicompax che vede i sottocontatori deputati alla funzione secondi continui e minuti cronografici senza il terzo sub dial dedicato alle ore crono ma la ghiera può anche essere utilizzata semplicemente per tener conto dei minuti passati da un evento x puntandola sulla sfera minuti come si fa di solito e senza attivare la funzione crono insomma si tratta di una opzione aggiuntiva utile a monitorare qualsivoglia evento il limite è la fantasia tra l'altro tutte queste possibilità vengono avvallate dall'ottima leggibilità intrinseca degli elementi posti sul quadrante in primis occorre menzionare il trattamento antiriflesso interno al vetro che permette di poter usufruire delle forme senza ostacolo alcuno tra l'altro è praticamente assente il cosiddetto milky ring quell'allone grigio sui bordi causato spesso dalla curvatura del vetro qui non è presente e si può così apprezzare il reo modellato dalla rifrazione venutasi a creare ma non solo di vetro vive la leggibilità è il contrasto palese tra fondo e accenti a determinarla in percentuale consistente laddove bianco su nero la fa da padrone un quadrante la cui insolita finitura lucida ricopre la totalità della superficie sotto quadranti compresi ci si potrebbe aspettare un peggioramento della resa visiva ma così non è in quanto i sub dials riescono a restituirci il giusto contrasto grazie alle sferette ben evidenziate da notare che nonostante la medesima finitura i quadrantini appaiono piuttosto delineati grazie al fatto che sono stati realizzati leggermente in negativo rispetto al piano quadrante più in generale ci troviamo di fronte ad un dial ben equilibrato complice l'assenza del datario e con i due subcontatori molto esterni quasi a contatto con il reo appare quindi evidente la simmetria risultante dai due indici ad ore 12 e ad ore 6 e due quadrantini ad ore 3 ed ore 9 entrando invece nel dettaglio ravvicinato mi piace sottolineare gli indici a bicchierino così chiamati perché l'impressione è quella di un contenitore appunto un bicchiere riempito di materiale luminescente loro prerogativa è quella di essere molto rilievo rispetto al piano quadrante e ciò viene enfatizzato quando si vanno a posizionare nei pressi del bordo del sub dial come ad ore 2 ad esempio ho sempre apprezzato la profondità di prospettiva presente sul mio diver 65 bronze e qui la ritrovo in tutte le sue caratteristiche eccezione fatta per il dettaglio che si tratta di finitura acciaio mentre sul mio è color oro due scelte differenti che seguono giustamente due stili differenti in assenza di luce si scopre che tutti gli accenti necessari reagiscono positivamente il dot sulla ghiera gli indici e le sfere ma anche i piccoli secondi e il contatore dei minuti crono dato quest'ultimo che mette in mostra come siano i tempi lunghi a voler essere principalmente presi in considerazione sarà possibile monitorare eventi di durata fino a 30 minuti anche al buio a discapito di quelli che durano pochi secondi non ho ancora menzionato il calibro si tratta del oris 771 denominazione interna per il movimento su base sellite sv 510 uno dei calibri cronografici di fornitura più utilizzati che trova la ragione di essere proprio negli orologi di quei marchi che non hanno a disposizione meccanismi di architettura propria come sappiamo oris ha dalla sua un ottimo calibro solo tempo in house ma non ha ancora un cronografo meccanico sviluppato internamente e non mi è dato sapere se mai lo produrranno in ogni caso si tratta della miglior scelta possibile sia per pregio che per affidabilità e manutenzione non è possibile vederlo senza aprire l'orologio in quanto il fondello è cieco soluzione apprezzabile che rende sempre un orologio un pochino più solido almeno all'apparenza e misterioso da l'idea di essere un guscio impenetrabile a chiunque ciò non toglie che io sappia apprezzare e collezionare orologi con fondello trasparente non rimane che parlare del cinturino che in questo caso è ormai un classico di casa oris ossia il cervo volante naturalmente è il nome dell'azienda che realizza questo tipo di cinturini e il cervo volante altri non è che un coleottero come da incisione riportata all'interno però sì si tratta di un cinturino in pelle di cervo e per correttezza devo aggiungere che nessun animale è stato appositamente macellato per realizzarlo viene utilizzato il pellame del cervo rosso selvatico pellame proveniente dal contenimento della sovra popolazione di questo animale la qualità è eccellente in quanto morbido da subito e soprattutto realizzato in due strati sovrapposti esteticamente rientra completamente nei miei gusti si tratta di uno stile che spesso utilizzo quando ordino cinturini artigianali ossia nero e con le impunture bianche nei pressi delle anse in pieno stile vintage vi ricordo che esiste anche in versione braccialata soluzione che consiglio a chi come me apprezza molto l'acciaio attorno al polso un'ultima nota a margine sono presenti le spring bars a sgancio rapido facilitano la rimozione e il montaggio del cinturino stesso possiamo tornare in presa diretta per le considerazioni finali inutile dirvi che per me l'orologio è promosso ma siccome non esiste l'orologio perfetto qual è il punto debole di questo segnatempo che abbiamo guardato oggi del diver 65 cronografo lo spessore è purtroppo spessore oltre 15 mm è un punto che va a suo sfavore fortunatamente viene ben camuffato dal design dalla linea dalla carol sottile e quindi si può indossare tranquillamente però spessore c'è un boccone che va mandato giù punti positivi poi tutto il resto voglio dire un cronografo compatto dallo stile vintage dall'ottima leggibilità materiali ottimi il cinturino l'avete visto è proprio di quelli top grade se si potesse dare un termine ai cinturini un termine di valutazione qualitativa top grade poi secondo me questo orologio qua potrebbe anche diventare una pietra miliare nella collezione e nella storia nel percorso di oris perché perché secondo me questo qua l'oris diver 65 lo è già diventato io al tempo in cui dovevo comprare questo 65 ce n'erano due versioni una con gli indici circolari come questo e una con i con gli indici fatti geometricamente vi metto una foto qua così lo capite bene ero indeciso tra i due poi alla fine decisi per questo anche se quell'altro mi sembrava molto originale ecco al giorno d'oggi quell'altro è completamente scomparso dal mercato e questo qua è ancora a catalogo anzi viene anche declinato in altre versioni addirittura con il calibro 400 in house cosa vuol dire vuol dire che questo qua ha passato tra virgolette l'esame no quell'altro è stato tolto dal mercato perché perché il tempo e il mercato ha deciso che questo può essere un orologio da tenere in collezione a lungo termine ok e a parer mio loris diver 65 cronografo potrebbe diventare un cronografo da tenere a catalogo a lungo termine per questo che lo definirei una pietra miliare un cronografo 40 mm catalogo da oris non c'è mai stato quindi secondo me avrà lunga vita verrà declinato anche in altri colori e in altre fogge vedrete che sarà così poi io ho messo tutte le notizie le informazioni qua tutte le immagini possibili riprese angolazioni poi sta a voi vedere decidere no chiaramente poi la prova al polso può togliere tutti i dubbi però già da qua voi potete fare una scrematura sì mi interessa questo orologio no non mi interessa questo orologio come tutti noi io misure tutto quello che potevo fare l'ho fatto anche qualche parere personale va bene mi sembra di aver detto tutto vi ringrazio per essere arrivati fino qua e non mi resta quindi che ricordarvi gli appuntamenti fissi che come sempre sono quando voglio io il più spesso possibile qui su youtube love ciao 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 ciao